Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per cantieri verso nord tra Arezzo e Valdarno. In Fipilì segnaliamo che è chiusa l'uscita di Livorno Aurelia per chi proviene dal Livorno. Prudenza inoltre per perdita di carico tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Uno sguardo alle statali sul raccordo Siena-Firenze. Questa notte in orario 21.06 sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di San Casciano Sud e in pruneta greve inchianti per lavori. La chiusura è legata alla riqualificazione del viadotto Docciola. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario dal lunedì 26 febbraio a seguito di lavori all'infrastruttura al Bivio Olmatello sarà ripristinata l'offerta dei collegamenti regionali diretti tra Empoli e Firenze Castello. Contestualmente i treni ai quali erano state aggiunte le fermate straordinarie di San Donnino, le piagge e la Strassigna torneranno a circolare con la normale programmazione. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.